Da domani in vigore la nuova procedura del CNCPO. Tutti gli operatori sono soggetti a vari tipi di filtraggio, il più delicato è proprio quello del CNCPO. CNCPO sta per Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia. Gli operatori di venerdì scorso hanno ricevuto, o dovrebbero aver ricevuto, una perda amministrativa all'interno in cui vengono comunicati i nuovi requisiti tecnici e le caratteristiche che devono adottare per poter poi filtrare. Domani, martedì, verrà distribuita la nuova blacklist a tutti gli operatori. Gli operatori devono essere pronti, quindi da venerdì a martedì a essersi attivati nelle nuove procedure che hanno già state comunque comunicate. Se siete un operatore e non siete pronti, non fatevi trovare impreparati perché la violazione di questo obbligo va da 50.000 a 250.000 euro, quindi una bella sanzione amministrativa. Entro la mezzanotte di stasera, lunedì, bisogna espletare delle richieste della Polizia di Stato. Non dormite e se avete bisogno mi potete contattare.